Si dice ormai comunemente che viviamo non tanto nella società della conoscenza, ma nella società della comunicazione. Io credo che sia più giusto dire società della conoscenza e le tecnologie che hanno reso questa parola più familiare sono quelle di internet, il mondo della rete, dove i contenuti, quello che c'è in rete non è immateriale, ma è immateriale ed è dunque soprattutto conoscenza, conoscenza prodotta in vari modi, conoscenza prodotta da noi stessi che continuamente mettiamo contenuti in rete anche con qualche rischio o con molti rischi, profili Facebook che sono stati poi utilizzati da datori di lavoro per negare l'assunzione dicendo no, io non voglio assumere una persona che ha messo queste foto su Facebook, io non voglio assumere una persona che ha raccontato che poi si faceva le canne da ragazzo. Perché ormai l'universo della rete è così complicato che se qualcuno poi arriva nel mio ufficio e scopre che lavora lì una persona che ha questi precedenti, dice questo non è un ufficio, un'organizzazione, un'impresa affidabile. Ecco che siamo di nuovo sul campo dei diritti. Grazie. Grazie.